Naturalmente il tema al centro è la crisi, la guerra in Ucraina, la regione Piemonte ha agito immediatamente, nelle scorse ore, un intervento concreto dove i bambini oncologici sono stati fisicamente portati a Torino. Assessore Cucino, lei era insieme al Presidente della Regione, Presidente del Senato, insomma ci racconti? Ma qualche giorno fa avevamo dato la nostra disponibilità tramite l'ambasciata a farci carico attraverso Regina Margherita che è un'eccellenza dal punto di vista delle cure oncologiche, a farci carico di più bambini possibili ucraini che le loro famiglie. In realtà abbiamo potuto trasportare 13 bambini, 5 fratellini e 14 familiari, è stata un'emozione davvero unica perché è stato un momento di grande empatia, non soltanto umana ma anche di natura, di carattere parentale e familiare perché questi bambini avevano bisogno davvero di sostegno e di supporto, sono arrivati alcuni addirittura con le flebo ancora attaccate al confine, scortate dai gendarmi e poi a quel punto c'era un'equipe medica che era partita già dal venerdì sera che li ha prelevati e hanno fatto un viaggio davvero incredibile anche in Pullman grazie a questo imprenditore albese Barbero che ha messo a disposizione questo Pullman che vive ormai da oltre 15 anni in Romania e ci hanno finalmente raggiunto all'aeroporto di Iasi dove c'eravamo noi in attesa, però lì ci siamo attivati soprattutto il presidente Cirio, devo dire la dottoressa Fagioli per cercare di porre in essere tutte quelle azioni diciamo anche a livello burocratico perché questi bambini erano privi di passaporto ed avevano solo i documenti di nascita, quindi evidentemente anche lì c'è stato un momento di difficoltà che abbiamo nell'arco di un'ora e mezza, due ore però sciolto e quindi i bambini e le famiglie sono riusciti a salire a bordo, c'è stato un momento di tensione però e poi abbiamo veramente avuto la certezza che questi bimbi erano come sollevati, avevano addirittura fatto un tragitto a piedi all'alba appena era venuto meno il coprifuoco per passare la frontiera e quindi le mamme erano esauste e i bambini più piccoli avevano comunque un'energia incredibile e mentre i ragazzini un po' più adulti, un po' più grandicelli per quanto minorenni sicuramente erano molto molto più provati. Allora senti, adesso fisicamente sono a Torino, com'è la situazione? Ho appena ricevuto prima una telefonata dalla dottoressa Fagioli che è appunto il primario del Regina Margherita che mi ha chiesto domani mattina avremo subito una riunione, i bambini stanno bene, domani me ne accerterò, il presidente Cirio non è attualmente in Piemonte quindi mi ha dato questo mandato, me ne accerterò personalmente, andrò nei reparti e soprattutto ci occuperemo anche di migliorare l'aspetto sociale e di integrazione di queste famiglie perché ripeto ci sono i bambini che debbono riprendere le cure e in queste ore mi dice la dottoressa Fagioli hanno ripreso le cure e devono riprendere anche i cicli di chemioterapia che purtroppo erano stati tutti sospesi in Ucraina proprio a causa della guerra e poi dobbiamo occuparci proprio del tema della scuola, insomma fare in modo che questi bimbi, soprattutto i fratellini che sono sani e che sono qui ad accompagnare le mamme e i loro fratellini ritornino in una dimensione sociale.